salve a tutti e benvenuti nel rifugio oggi appuntamento mensile con il paperinic paperinic numero 92 di agosto un numero che come vedremo tra pochissimo è come al solito pieno 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 di ristampe su ristampe ormai lo sappiamo paperinic è così devo anche dire che ho avuto dell'esperienza adesso in alcune edicole perché il mio edicolante è chiuso quindi sono andato a comprare questo albo in un'altra edicola che di solito non frequento ho visitato prima un'altra edicola dove aveva una sola copia però era stata già venduta e poi sono andato in centro a bologna ho preso un'altra ho preso appunto questa copia qui e l'edicolante mi ha detto che ne ha vendute comunque diverse di copie quindi che cosa sta a significare sta a significare che la panini con paperinic fa massima resa o la minima spesa perché è inutile migliorare la scelta del sommario oppure curare meglio la testata tanto alla fine vende lo stesso quindi perché spendere più risorse più energie e più denaro e questa cosa a me dà molto fastidio come detto arriverò al numero 100 visto che a questo punto ho constatato di persona che paperinic vende significa che ci arriveremo al 100 io pensavo che forse non ci arriveremo però alla fine penso che lo supereremo pure a sto punto questo questo numero fatidico comunque andiamo a vedere più nel dettaglio il sommario di paperinic 92 eccoci qui dunque con il paperinic numero 92 di agosto 2024 con questa bella copertina disegnata sempre ormai come ci siamo abituati in ultimi tempi da ivan bigarella e colorata da luca merli vediamo il logo paperinic che ha questa sottospecie di sfondo 3d simile 3d che non mi ricordo se i numeri precedenti l'avevano adesso mi viene un vuoto di memoria comunque con questo sfondo giallo ecco diciamo che non mi fa impazzire ecco il logo andiamo poi a guardare all'interno c'è un classico editoriale non firmato che ci introduce la nuova storia di diary walkie night e poi le altre storie che seguiranno quindi iniziando subito con diary walkie night capitolo 22 cose impossibili di riccardo pesce ai testi e marco mazzarello ai disegni vediamo come fox knight che si trova in pericolo in mezzo ai ghiacci del di questo monte particolare diciamo monte crudele se non sbaglio si dovrebbe chiamare vediamo anche che grazie al colpo di fortuna ovvero gastone che si trovava nei paraggi riesce a raggiungere questo regno degli elfi che praticamente si trova all'interno di una grotta e qui troverà gli altri cavalieri della tavola moneta vediamo che belli i disegni ragazzi bellissimi davvero molto evocativi poi una peculiarità che mi piace tanto di diary walkie night sono la la divisione in vignette in maniera artistica lavoro iniziato da lorenzo pastrovecchio insomma e proseguito anche dagli altri autori molto molto carino vediamo che il fulcro di questa storia è l'aschi che è tramutato in un rospo da melia decide di tradire il suo padrone rockardark per andare diciamo ad aiutare re paperone pendragon e vediamo però che la fine di questa storia culminerà con un cliffhanger finale qua c'è anche un rimando alla leggenda del quarto nipotino vediamo pure il colore il giallo che mi ha fatto sorridere molto molto interessante e vediamo che per il prossimo numero ci dovrebbe essere la resa dei conti finale una storia diciamo divertente ecco non giusto di allungamento del brodo come forse sono state le precedenti c'è un po più d'azione ci sono più personaggi quindi per me è valida proseguiamo poi con la sagra della ristampa di nuovo ovvero paperinick il problema estivo questa è una storia uscita in origine su paperinick altri supereroi 72 del primo settembre 99 testo di bruno concine disegni di sandro dossi e questa storia è stata ristampata anche ovviamente perché appunto è uscita in origine su paperinick altri supereroi su paperinick cult 39 paperinick upgrade numero 10 paperinick le origini del mito 47 paperinick di questa serie quindi del paperinick 2018 numero 44 uscita nel 2020 quindi questa storia c'ha già come ultima ristampa 4 anni ecco quindi me la ricordavo già appena l'ho iniziata a leggere vediamo che grazie ai nipotini sono riusciti a mettere da parte qualche spicciolo i nostri paperino e nipoti per l'appunto potranno farsi una vacanza però ecco paperino pensa che lui non potrà partire in vacanza perché c'è da vigilare sulla città per l'appunto perché lui ormai è un supereroe no non è più il vendicatore che adesso abbiamo riscoperto e quindi deciderà di fare gli straordinari ovvero di catturare tutti i nemici tutti i ladri criminali di paperopoli per poter partire in vacanza tranquillamente però poi che cosa succederà che arriveranno anche dei criminali da fuori paperopoli e quindi dovrà mettersi d'accordo ecco con i capi della mala è abbastanza carina come storia però ragazzi il fatto che sia stata diciamo ristampata in numerevoli volte mi dà molto molto fastidio andiamo poi a vedere la seconda storia ristampata di recente potremmo dire anche questa volta ovvero paperinic la crociera degli inganni storia scritta da marco bosco e disegnata da luciano milano uscita in origine su paperinic cult numero 40 di agosto 2008 ed è stata ristampata in paperinic upgrade numero 11 paperinic l'origine del mito numero 71 quindi questa storia si salva perché manca da questa testata quindi ci sta questa ci sta alla fine perché l'ultima ristampa risale a parte paperinic l'origine del mito del 2020 a paperinic upgrade numero 11 del 2013 in questa storia paperinic accompagnerà zio paperone su una nave da crociera che salperà dal porto di napoli per appunto fare questa acquisizione di questa nave da crociera zio paperone si porterà presso la numero uno appunto per portarli fortuna però qua a napoli ovviamente ci sta amelia che quindi potrebbe approfittare della situazione per rubare la numero uno e quindi questa è una delle rare storie dove vediamo paperinic affrontare amelia mi è piaciuta davvero molto ci sono molto belle le scene di combattimento possiamo notare qui amelia che scaglia una palla di fuoco verso paperinic anche scudi tecnologici che usa ma vediamo un bello un bell'incontro ecco uno scontro tra tecnologia tra gadget e magia alla fine scopriamo che zio paperone aveva già messo in atto un piano per difendersi e quindi paperino gli giocherà uno scherzetto ecco qua paperinic ritorna un po vendicatore poi abbiamo paperinic in missione vacanze questa è una storia scritta da barbara pellizzari e disegnata da roberto lauciello non ho mai sentito roberto lauciello uscita in origine su topolino 2490 del 19 agosto 2003 e questa storia ragazzi è stata ristampata tantissimo perché oltre al topolino 2490 è uscita su paperinic cult 59 del 2010 paperinic upgrade numero 10 del 2013 paperinic upgrade numero 21 del 2014 pure quindi sulla stessa testata a distanza di un anno questo è palesemente un errore di chi aveva curato il sommario del paperinic upgrade paperinic 20 del 2018 quindi questa testata è uscita anche sull'omaggio kinder i fumetti che uscivano su kinder sulle merendine kinder e poi è uscita su paperinic l'origine del mito numero 60 io proprio io poi non so che cos'è questa testata e ovviamente su questo numero quindi storia ristampatissima e vediamo che anche in questo caso paperino deve partire per le vacanze però si è scortato di togliere tutti i gadget nuovi che gli ha fornito archimede gadget di paperinic gadget che verranno usati dai nipotini che li scambieranno appunto per giochi da utilizzare sulla spiaggia a partire da una rete per giocare a beach volley un salvagente e così via storia esilarante dove vediamo appunto paperino alle prese con il raccoglimento di tutti i suoi gadget qui abbiamo paperinic la sovrasposizione multi piattaforma questa me la ricordo molto bene come storia perché l'ho letta di recente uscita in origine su paperinic upgrade numero 7 di aprile 2013 scritta da jacopo cirillo e disegnata da valerio eld e oltre a paperinic upgrade numero 7 è uscita su paperinic 47 del 2020 quindi quattro anni fa paperinic origine del mito 85 del 2021 anche in questa storia paperino ecco si appassionerà dei social quindi facebook twitter x che prima si chiamava twitter youtube che qui hanno la loro trasposizione di paperopoli ovvero face duck duck tweet pup tube e così via che vengono gestite tutte da un portale chiamato duck suite e vediamo come paperino non riesce a farsi amici virtuali follower è zero quindi praticamente però come paperinic diventerà molto molto famoso però la popolarità lo porterà anche a essere prevedibile da parte dei ladri e qui entreranno in scena gli amici di papernet che aiuteranno paperinic quindi sta storia me la ricordavo davvero molto molto bene perché l'alessi di recente con nel 2020 carina appunto si ha a che fare con la modernità dei social proseguiamo poi con paperinic l'intrigo sotterraneo questa è una storia scritta da stefano ambrosio disegnata da silvia ziche uscita su topolino 2502 dell'11 novembre 2003 e questa storia è stata ristampata ovviamente su paperinic cult 60 su poi anche disney comics numero 4 paperinic di abolico vendicatore paperinic upgrade numero 12 paperinic 21 del 2018 e paperinic l'origine del mito 60 qua come diciamo fulcro della storia abbiamo che sta per essere creata la nuova linea metropolitana di paperopoli che passerà addirittura vicino casa di paperino e paperino si rende conto che se deve passare vicino casa sua potrebbero scoprire il rifugio segreto di paperinic quindi cercherà con ogni mezzo di far deviare il percorso della metropolitana e sembrerà non riuscirci però alla fine c'è come al solito il colpo di scena i disegni di silvia ziche sono sempre esilaranti davvero divertentissimi e poi abbiamo paperinic e i dubbi a catena questa è una storia scritta da bruno concina disegnata da valerio eld ed è uscita su paperinic altri supereroi 33 del primo giugno 96 ed è stata ristampata su paperinic altri supereroi sempre numero 124 paperinic cult 23 paperinic questa serie numero 12 e paperinic origini del mito numero 30 su questa storia questa me la ricordo perché evidentemente l'avevo letta su paperinic altri supereroi oppure perché l'ho letta su paperinic numero 12 del 2017 sicuramente ci sarà appunto questa fiera del gioiello dove verranno massimizzati gli sforzi delle forze dell'ordine per appunto garantire la sicurezza e quindi diciamo che a paperinic spetterà anche il compito di non solo proteggere questa fiera ma anche paperopoli da vari criminali qui ci saranno varie scene che metteranno in dubbio la capacità di infallibilità di paperinic a tal punto da renderlo dubbioso su ogni azione da compiere e poi scopriremo che questa questi errori commessi da paperinic in realtà sono orditi da dei criminali particolari che volevano appunto minare la stabilità emotiva del nostro supereroe mascherato una storia questa che mi è piaciuta molto e anche se è stata ristampata diciamo comunque è meritevole di essere letta poi abbiamo la posta dei lettori ovviamente dedicata a paperinic è un'anteprima del prossimo numero che dire ragazzi di questo paperinic numero 92 le ristampe continuano come detto in panini come detto nell'intro quindi non interessa utilizzare più attenzione perché tanto vende lo stesso come testata basta appunto il marchio o anche le bellissime copertine di bigarella quindi che dire questo era paperinic 92 fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha comprato lo comprerà oppure non vorrà comprarlo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao